e allora amici di youtube benvenuti o bentornati qua sul canale di burchi per chi è nuovo perché nuovo qui vi parla burchiano dalla toscana precisamente dalla maremma e andremo a costruire un parma che rispecchia le caratteristiche perfette per il neo allenatore pecchia per ritornare grande per ritornare dove il parma ha sempre meritato ovvero nel calcio che conta nella serie a e perché no in futuro magari anche in europa quindi in questo video andremo a costruire questo parma che gaza con stile facendo riferimento sempre una situazione di bilancio reale ma prima di partire vi invito ad iscrivervi al canale iscriviti maremma cane iscriviti maremma cane qui parla burchiano lo youtuber toscano quindi iscrivetevi tutto il canale condividetelo con tutti i vostri amici e soprattutto condividetelo nella città di parma che è la cosa fondamentale la burchia agenda è pronta perché qui dalla burchia agenda si costruiscono le migliori squadre le migliori squadre e quindi è pronto è pronto è pronto è una rivoluzione totale questa partendo da un budget zero partendo da un budget raga che è zero quindi nemmeno io vi chiedo io non chiedo niente non chiedo niente a che si usa mi sembra si chiama il patron del parmo indi non vi chiedo niente soltanto di seguire questo ragionamento importante allora questa sarà una squadra con un mix che poi dopo vi spiegherò il perché e andiamo subito a partire dai portieri andiamo subito a fare il mercato delle uscite poi al mercato delle entrate buffon turc e colombi confermati tutti e tre quindi reparto portieri confermato esperienza gioventù perfetto siamo siamo a posto siamo a posto difensori centrali cobo confermato valenti confermato tra l'altro cobo potrebbe giocare anche terzino sinistro secondo me osorio ceduto per due milioni di euro una squadra anche all'estero perché no magari in una in una premier league in seconda divisione in una in una squadra di bassa liga insomma dove pare baloghe da e direx ceduti per un milione totale anche il lega pro perché no danilo lo mandiamo danilo lo mandiamo a fare pellegrinaggio allora danilo lo mandiamo a fare pellegrinaggio in asia così quando arrivano tutti diciamo a fare la visita al papa al vaticano arriverà danilo che tutti conoscono bene in italia perché ce lo ricordiamo no già ha giocato in serie a comunque ha avuto una carriera abbastanza importante arriverà con tutti i pellegrini il pellegrino danilo cioè già ci vedo col cerchietto in testa tra l'altro tra l'altro è mezzo pelato con la barba più lunga arriverà a fare proprio da farà da tramite farà proprio da guida a tutti i pellegrini che andranno a trovare il papa il vaticano quindi danilo lo mandiamo in asia fare pellegrinaggio a zero terzini sinistri zagaridis zagaridis e costa via per 500 mila euro totali terzini destri culibali rispoli e laurini via per un milione e mezzo totale via 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 tutti sti terzini tutto sto mix di terzini sto terzinome sto casino terzini terzetti terzastri ma che roba è qui serve gente seria serve gente no sto tutte ste seconde terze linee messi lì a fa figurinismo inutile quindi tutti via a centrocampo a centrocampo confermo iurice bernabè e brunetta quindi il trio il trio brunetta no no il ministro brunetta brunetta bernabè e iurici confermati tutti e tre e c'è tutto il resto che non si capisce che erano intrigo di vecchi di mezzi giocatori schiattarella cassata camaratra ore vasquez e som per un totale di otto milioni anche vasquez via nonostante comunque vasquez è un giocatore che rispettabilissimo forte che mi piace che ha talento che a classe chiaramente da parte le cavolate però lo vedo bene al cagliari con liberani vasquez quindi via anche tutti questi tutti questo tutto questo intriccico per otto milioni totali e per quanto riguarda le ali di attacco confermo confermo man e basta regalo sprocati pigliatelo voi sprocati in attacco confermo benedì giac eccedo pandev boni inglese e simi per 4 milioni di euro totali a questo punto dobbiamo prendere un di due allora questo punto dobbiamo prendere per precisione fammo casino non fammo casino due difensori centrali destri due terzini sinistri due terzini destri due centrocampisti centrali un trequartista una alla destra due ali sinistre e un attaccante e abbiamo un budget a disposizione di 17 milioni di euro va bene quindi come primo difensore centrale io prendo glick 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 così almeno lì dietro tutti quelli che passano arriverà la motosega il tagliaerba la barra falciante la falce barrante glick che taglierà tutto glick 34 anni a parma ce lo vedo benissimo come sostituto di quelli che ho detto prima per me va più che bene e via e via con un mix di esperienza ma anche di gioventù perché il secondo lo prendiamo bettella bettella difensore centrale che a monza si è messo in mostra 22 anni un giocatore che per me si può valorizzare ancora di più futura possibile plus valenza giocatore italiano giocatore giovane che può fare bene quindi andiamo a completare questo pacchetto difensore centrali con glick e bettella ok poi per il per il a sinistra a sinistra prendiamo il duttile 23 n luca ranieri per due milioni e mezzo dalla fiorentina va bene corsa inserimento l'ultima stagione alla salernitana ha fatto 27 partite con un gol e anche voglia di riscatto anche voglia di riscatto quindi dentro dentro il grande ranieri che si rilancerà parma e come vice ranieri prendiamo l'esperto lisi l'esperto lisi dal perugia a parametro zero quindi copite bene come si sta impostando questo parma a destra come terzino destro marquitt a zero dal napoli voglia di riscatto c'ha gamba c'è anche un certo stile uno stile ducale che per me si può rincarnare con questa situazione quindi via dentro marquitt dentro marquitt via dal napoli e dentro al parma vice marquitt brusca jean a zero dal vicenza come centrocampisti centrali fagioli in prestito dalla juventus che affidiamo le chiavi in cabina di regia il grande fagioli e il ritorno di giose mauri cose mauri cose giose mauri che può fare tutti i ruoli centrocampo quindi tutti e 2 a 0 cioè stiamo rendendo conto come alla destra d'alessandro dal monza come vice man a un milione di euro quindi io direi che va benissimo ali sinistre io avevo indicato un giocatore come zani macchia per con quelle caratteristiche con quelle caratteristiche lì che ha zani macchia poi zani macchia dovrebbe essere quasi a un passo dalla cremonese in questo momento però ecco un giocatore con quelle caratteristiche per me serve lì davanti sulla sulla sinistra e poi coin dal pisa per 2 milioni perché poi un giocatore molto d'utile e per me raga può fare può fare bene può fare bene come attaccanti io penso che un ritorno di tutino sia ben accetto sia ben accetto a parma più con con una diciamo operazione totale da 4 milioni di euro io penso che ti poi riandrà riandrà tranquillamente a prende tutino e poi per completare il reparto offensivo serve per me un attaccante con delle caratteristiche miste tra questi due che magari può essere un giocatore giovane un giocatore che ha voglia di rilancio un giocatore che potrebbe essere per esempio un cutrone no preso in prestito con diritto di riscatto un giocatore in quel modo lì un giocatore oppure come esposito ecco però un cutrone in questo momento ce lo vedrei e ce lo vedrei bene io non so la valutazione che sarà di cutrone totale ma io penso sui 4 5 milioni di euro o sarà quella lì quindi il budget è terminato e abbiamo una rosa una rosa per me composta bene per questo 4 2 3 1 di pecchia e può che può fare molto molto bene può andare poi secondo me veramente a trovare delle soluzioni importanti con un calcio propositivo con un calcio fatto di verticalizzazioni ma anche di lanci lunghi ripartenze veloci perché poi la difesa sarebbe si composta da gente esperta ma anche gente molto veloce sulle fasce a centrocampo smistamento di gioco veloce e sugli esterni anche buona buona corsa buona gamba buon drippling e là davanti delle soluzioni delle soluzioni importanti quindi ragazzi questa è la rosa definitiva per questo nuovo parma con pecchia ideale per il suo 4 2 3 1 ma poi può essere utilizzato per me anche qualche altro modulo per esempio un 4 4 2 4 4 2 ce lo vedrai bene con questi interpreti qui con portieri buffon turc e colombi mix di esperienza e gioventù difensori centrali cobo valenti glick e bettella due destri e due mancini quindi veramente difesa composta molto molto bene il reparto centrali a sinistra ranieri e lisi con ranieri che sarà il titolare e con il lisi che darà esperienza e andrà a fare il vice dando comunque delle buone garanzie qualora dovesse essere chiamato in causa stesso discorso a destra con malquitt titolarissimo e brusca gine suo vice centrocampisti centrali iurice brunetta bernabè fagioli e rose mauri qualità ma anche comunque quantità sia sia diciamo comunque un centrocampo composto da giocatori in grado di fare gioco giocatori anche in grado di inserirsi ma anche di fare legna quindi un centrocampo composto molto molto bene un mix perfetto attaccanti centrali benedijak cuterone e tutino in grado di giocare ad una punta sola ma anche a due punte perché no sicuramente questo questo trio ti dà delle buonissime garanzie ali sinistre un giocatore come zanimacchia e un coin ci stanno benissimo e ali destre man ed alessandro con man che partirà titolare e con poi d'alessandro pronto a subentrare oppure potrebbero giocare anche di questi qui 3d4 qualche volta magari nel 4231 poi insomma ecco tante opzioni per pecchia per comunque far giocare il suo parma con sicuramente un calcio propositivo e anche un calcio bello da vedere per me con questa rosa il parma può davvero tornare in serie a fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale cosa importantissima condividetelo con tutti i tifosi del parma con tutti gli appassionati di calcio